grave schianto sulla fogliense feriti i conducenti di due mezzi 166 professori firmano una lettera per riattivare le lezioni in presenza covid oltre 140 casi a pesaro continua lo screening di massa nuovi fondi per la cittadella della musica conservatorio pronto alla ristrutturazione una buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV il canale 633 del digitale terrestre bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale subito in apertura la cronaca per darvi conto di un importante incidente stradale che ha avuto luogo questa mattina lungo la statale fogliense in località montecchio di valle foglia l'impatto ha visto coinvolti due veicoli un furgone ed un'autovettura ancora da accertare i dettagli dello scontro frontale che ha richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco i quali hanno estratto una donna dall'abitacolo della vettura in cui era incastrata entrambi i soggetti coinvolti nello schianto al momento del soccorso pare non fossero in pericolo di vita e sono stati trasportati in ospedale per accertarne le condizioni di salute la circolazione stradale è stata interrotta per svolgere in completa sicurezza le operazioni di soccorso ancora la cronaca perché sono due gli uomini arrestati e oltre 2500 le persone controllate con il bilancio delle operazioni svolte nell'ultima settimana dal compartimento di polizia ferroviaria per le marche umbria e abruzzo uno dei due soggetti condotti in arresto un 43 n di origini rumene era diretto a pesaro ma è stato fermato dagli agenti della stazione di ancona l'uomo in evidente stato di ebrezza aveva iniziato ad infastidire i passeggeri del treno regionale su cui stava viaggiando alla vista dei poliziotti il 43 n ha reagito aggredendoli per poi tentare la fuga l'uomo dopo aver danneggiato anche gli uffici della polizia ferroviaria presso cui era stato condotto è stato condannato a otto mesi di reclusione e al pagamento di una sanzione per il mancato utilizzo della mascherina e parliamo ora di scuola perché sono 166 professori di diversi istituti superiori della provincia di pesaro e urbino che hanno firmato una lettera destinata a governo regione e prefettura per chiedere il ritorno in presenza degli studenti a scuola vediamo servizio è stata firmata da 166 professori di varie scuole superiori della provincia di pesaro urbino la lettera indirizzata al governo nelle figure del ministro dell'istruzione nazolina e dei trasporti dei micheli al presidente della regione francesco acquaroli e al prefetto vittorio la polla per chiedere il ritorno in presenza degli studenti in classe gli insegnanti firmatari dei licei mamiani marconi mengaroni nolfi appolloni raffaello scuola del libro e torelli rimarcano come a metà settembre le scuole abbiano riaperto in sicurezza anche grazie alle importanti risorse economiche investite nei mesi estivi problematica per la quale invece non sono arrivate le risposte sperate è quella del trasporto pubblico i docenti firmatari del manifesto sottolineano come le misure messe in campo all'interno degli spazi scolastici siano state continuamente osservate rispettate da parte degli studenti i quali però hanno dovuto fare i conti con la complicata organizzazione del trasporto pubblico in primis ad esempio con il mantenimento della distanza minima di sicurezza sui mezzi un messaggio brutalmente anti educativo scrivono i professori che sottolineano come studentesse studenti abbiano vissuto la percezione di una scuola pubblica che li tutelasse a contrario delle difficoltà emerse nell'organizzazione dei trasporti altro nodo rimarcato dai docenti è quello della didattica a distanza imposta da inizio novembre in forma integrale a tutti gli istituti superiori a prescindere dal colore della regione misura che come riferito dai firmatari in nessuna forma può rappresentare un'efficacia alternativa alla didattica in presenza venendo a mancare il contatto reale tra studenti e professori e accentuando una sorta di isolamento digitale indispensabile afferma quindi il corpo docenti che ognuna delle istituzioni competenti si assuma la responsabilità della riapertura trovando le migliori soluzioni e possibilità che garantiscano la sicurezza dei ragazzi alcuni esempi illustrati dai firmatari si riferiscono all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ad una corretta rimodulazione degli orari delle corse dei mezzi e l'impiego di forze di pubblica sicurezza che possano vigilare sull'entrata e sull'uscita degli studenti per scoraggiare eventuali comportamenti imprudenti il desiderio dei prof quindi è quello che si applichino tutte le risorse possibili per una pianificazione a medio e a lungo termine che garantisca una scuola sicura e in presenza pronta a riaccogliere nell'auspicata riapertura del mese di gennaio anche gli iscritti delle scuole superiori e ora la pagina degli aggiornamenti per quanto riguarda il covid sul territorio regionale il servizio sanità della regione marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.162 tamponi 2.758 nel percorso nuove diagnosi e 1.404 nel percorso guariti i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 363 con 144 casi nella provincia di pesaro e urbino le vittime comunicate ieri dal servizio sanità sono sette due di queste risiedevano a pesaro e una a e con i dati aggiornati di ieri salgono invece a più di 10 mila le persone che dal venerdì scorso si sono sottoposte al tampone rapido per lo screening di massa nella provincia di pesaro e urbino l'indagine sanitaria regionale ha permesso di riscontrare attualmente 80 casi positivi con una percentuale di positività rispetto al numero di test effettuati dello 0,8 per cento ed è stato approvato ieri nell'ultima seduta del consiglio comunale per quest'anno il bilancio di previsione 2021 ce ne parla nella prossima intervista l'assessore con delega al bilancio del comune di pesaro riccardo pozzi siamo uno dei pochi comuni ad approvare il bilancio di previsione entro il 2020 quindi è un elemento di virtuosità che manteniamo nella tradizione di che questo comune ha sempre rispettato in questi anni quindi forma e sostanza è un bilancio in equilibrio un bilancio solido che prosegue quindi quella che le tradizioni di questo di questa amministrazione comunale e che cercherà sulla parte del sociale di fare uno sforzo ancora in più perché il rischio che la pandemia allarghi la distanza sociale distanza socio economiche tra cittadini che stanno meglio e quelli che stanno peggio che pagheranno le conseguenze della crisi c'è quindi ci saranno un'attenzione in più penso al fondo anticrisi quindi 250 mila euro sin dal primo gennaio 2021 per il disagio abitativo ci sono altre risorse che rendono anche il bilancio un po innovativo penso al bilancio partecipato quindi 100 mila euro sulla progettazione condivisa dove i quartieri avranno un ruolo centrale anche come laboratorio di idee quindi un bilancio di cui c'è da essere sicuramente soddisfatti e sicuramente nonostante le preoccupazioni che sul futuro abbiamo un po tutti tema caldo quello della tari si parla dell'aumento si è parlato anche di questo in consiglio comunale sì la tari in realtà è cambiato quello che è il ruolo del comune sul sull'approvazione del pef è il ruolo della tari quindi quello che erano le preoccupazioni anche riportate dalle parti sociali sulle quali c'è stato un incontro nella stessa mattinata a cui ha partecipato anche l'assessore Mangucci dove insieme abbiamo stipulato un protocollo e sottoscritto un protocollo insieme a tutte le sigle sindacali dove confermiamo l'impegno come amministrazione comunale di mantenere inalterata quella che è la pressione fiscale mantenere lo stesso in posizione anche di tariffe quindi tariffe agevolate sui servizi educativi e sulla tari abbiamo fatto una promessa quella di impegnarci nei prossimi sei mesi di riconfrontarci in modo da evitare in tutti i modi che questo adeguamento che è stato proposto dal nuovo calcolo di Arera che consisterebbe in 86 centesimi ogni 100 euro di adeguamento tari di evitare che questo adeguamento vada a gravare su famiglie e in particolare sulle fasce più deboli quindi ci riconfronteremo e da parte del comune c'è la disponibilità a trovare la volontà anche di trovare un modo per non andare a incidere specialmente in questo momento sulle famiglie con le più in difficoltà Nuovo finanziamento di 100.000 euro per il comune di Pesaro grazie al posizionamento raggiunto nel bando Italia City Branding risorse importanti per il settore della cultura che saranno destinate ai progetti della Cittadella della Musica e che si aggiungono quindi agli interventi annunciati per il Conservatorio Rossini Conquistando il terzo posto tra i 97 progetti nazionali presentati per il bando Italia City Branding Pesaro ha ottenuto un nuovo finanziamento di 100.000 euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la progettazione di una residenza artistica all'interno di Palazzo Ricci Residenza artistica al cui interno è prevista la realizzazione di 50 posti letto che permetteranno di accogliere artisti internazionali, studenti del Conservatorio, ospiti del ROF oppure turisti Gli ottimi risultati raggiunti, ha sottolineato l'assessore alla cultura Daniele Vimini permetteranno di ampliare le linee di finanziamento destinate ai lavori e alle attività della Cittadella della Musica Di eccezionale importanza anche l'annuncio dell'ottenimento di altri 6 milioni di euro per la ristrutturazione del Conservatorio Rossini Credo che sia un momento storico importante perché il Conservatorio Rossini è un'eredità prestigiosa per la nostra comunità è l'unico conservatorio che si è costituito perché un illustre cittadino Rossini stabilì che erede universale fosse il Comune di Pesaro con l'impegno a realizzare allora si diceva un liceo musicale cosa che è stata realizzata si è dato vita ad una fondazione per gestire il patrimonio il Conservatorio negli anni è diventato statale eravamo arrivati ad una conclusione non facile perché il Conservatorio ha aumentato enormemente da pochi posti che aveva un tempo oggi ci sono 800 studenti di cui il 10% universitari la fondazione non ha i mezzi che aveva un tempo per sostenere un piccolo conservatorio non eravamo ammessi alla possibilità di accedere ai finanziamenti statali perché non avevamo la proprietà con questo emendamento che è frutto di un'azione collettiva congiunta tra il Presidente della fondazione il Sindaco, il Vice Sindaco, il Sottoscritto c'è stato un contributo anche importante del Prefetto di Pesaro che è stato sensibilizzato rispetto a questo tema e ha mantenuto dei rapporti con Roma si è riusciti ad ottenere un risultato che è storico per la città e ci consente quindi di fare degli interventi indispensabili che vanno dal tetto ai temi relativi al miglioramento della sicurezza agli infissi che sono ovviamente molto vecchi e l'ambiente è difficile riscaldarlo a fare la parte impiantistica nuova a fare tutto quello che si renderà necessario per rendere questo conservatorio come giusto che sia uno dei più belli d'Italia e quindi uno dei più belli del mondo le tempistiche sono approvato in via definitiva la legge finanziaria che passerà come tutti ormai sapranno con il voto di fiducia perché in Commissione l'emendamento è stato votato quindi entrerà nella legge finanziaria a questo punto l'emendamento prevede che entro 30 giorni il ministro dell'università e della ricerca dovrà emanare un decreto ministeriale attuativo e all'interno di questa disciplina che noi ci andremmo ad inserire per poter accedere ai finanziamenti nel modo migliore sapendo che comunque siamo tra le realtà più importanti del Paese e parliamo ora di un'iniziativa davvero importante portata avanti dall'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro che dallo scorso venerdì è impegnato nella preparazione dei pasti per tutti gli operatori pesaresi impegnati nello screening di massa siamo contenti di poter parlare di questa iniziativa perché inizialmente siamo stati contattati per poter ospitare questo screening e avute le garanzie che questo screening si svolgesse in completa sicurezza abbiamo pensato di dire bene, oltre ad essere ospitali cerchiamo di essere ospitali al 100% siamo una scuola alberghiera offriamo un pasto a tutti gli operatori sanitari e tutti i volontari e questo è stato possibile grazie al contributo della Banca di Pesaro che ha finanziato l'acquisto dei beni alimentari e soprattutto anche grazie al contributo dei docenti vorrei ricordare qui innanzitutto il professor Gabriele Bastianoni che è stato l'artefice ha curato tutto l'aspetto tecnico pratico e non solo quindi un ringraziamento a lui, ai docenti e soprattutto ai ragazzi l'attività è iniziata venerdì con la fornitura dei pasti solo per il personale impegnato all'interno della scuola da ieri invece siamo operativi per far fornire tutti i pasti alle persone coinvolte in tutti e tre i centri in totale siamo sui 70-80 pasti che noi ci stiamo adoperando per preparare in un'attività che per noi è del tutto nuova perché comunque la fornitura di un pasto caldo in una situazione differenziata dalla nostra non è abituale i ragazzi coinvolti sono i ragazzi delle quinte e in un numero congruo a quelle che sono gli spazi insomma a quelle che sono la normativa che prevede gli insegnanti coinvolti oltre a me sono tutti gli insegnanti che erano disponibili e in orario di servizio durante la mattinata e quindi il personale di cucina ma anche i tecnici di laboratorio i magazzinieri, si è mossa l'intera macchina dei laboratori e del personale che viene coinvolto nei laboratori durante la quotidianità insomma all'interno del nostro istituto inoltre sì non abbiamo neanche interrotto tutte le altre attività per le classi quindi abbiamo lavorato in sinergia con quella che era la quotidianità all'interno del nostro istituto e forniamo un piatto unico c'è un secondo piatto carne con due contorni un carboidrato, una patata, una pasta e una verdura di stagione noi ci adoperiamo per fare tutte le monoporzioni in contenitori biodegradabili adatti al trasporto degli alimenti li posizioniamo poi all'interno dei contenitori isotermici che sono quelli che vengono utilizzati stabilmente dalle aziende che fanno questo tipo di lavoro e poi beneficiamo dell'apporto e del supporto della protezione civile che fa il trasporto all'interno dei loro mezzi di trasporto riaprirà domani la RSA Bricciotti di Monbaroccio la struttura tornerà ad essere attiva però solo parzialmente con i rientri scaglionati degli ospiti e l'occupazione dei 14 posti letto situati al piano terra della residenza sanitaria 5 gli infermieri ASUR che lavoreranno all'interno della struttura insieme al restante personale che era in servizio presso l'RSA già prima della chiusura del 3 ottobre scorso dopo i primi 4 rientri previsti per il giorno dell'antivigilia ne arriveranno altri a partire dal prossimo 28 dicembre e si è tenuta nelle scorse giornate presso l'Istituto Bramante Genga di Pesaro la presentazione del progetto formativo capitanato da Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino insieme a un gruppo di imprese artigiane associate e in collaborazione con BS Group un progetto formativo rivolto agli studenti dell'indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy del settore legno arredo con l'obiettivo di rilanciare tutto il sistema delle micro, piccole e medie imprese del legno arredo del nostro territorio l'incontro con gli studenti ha rinnovato quindi la volontà di continuare a collaborare attivamente utilizzando anche i nuovi strumenti di collaborazione come visite virtuali, piattaforme tecnologiche e tanto altro ed è stato presentato questa mattina a Cagli l'Itinerario delle Rocche la nuova iniziativa di promozione turistica ideata da Confcommercio Pesaro Urbino basata sui lavori dell'architetto del 1400 Francesco Di Giorgio Martini il servizio è di Simone Celli Altro giro, altro itinerario la Confcommercio Pesaro Urbino ha tirato fuori dal suo prolifico cilindro un altro percorso turistico nato da una costola dell'ormai tradizionale itinerario della bellezza si chiama Itinerario delle Rocche ideato e sviluppato a partire dalle opere dell'architetto del 1400 Francesco Di Giorgio Martini questo architetto militare senese che nel 1474 Federico da Montefeltro chiama a completare il Palazzo Ducale contestualmente però affida a questo architetto il compito di fortificare per difendere il suo Ducato e questo architetto con spirito innovativo e con una capacità che probabilmente era rimasta inespressa negli anni precedenti perché nasce come pittore, scultore, realizza oltre 130 opere sul territorio tra fortificazioni militari, palazzi civili e religiosi e lungo l'itinerario della bellezza ci sono molte di queste opere che sono state realizzate per questo noi abbiamo pensato di creare un itinerario turistico che mette in rete le fortificazioni militari, le Rocche che Francesco Di Giorgio Martini aveva creato un progetto la cui promozione passerà anche attraverso i media locali e nazionali ma sono tante le idee in cantiere per riportare i lavori di Francesco Di Giorgio Martini agli onori delle cronache uscirà ad esempio nel mese di febbraio uno speciale su Bell'Italia dedicato proprio alle Rocche di Francesco Di Giorgio Martini ma realizzeremo anche una mostra itinerante con dei modelli di Rocche realizzati da Francesco Di Giorgio Martini uno di questi, l'ultimo che non c'era, è quello proprio relativo al Torione, la Rocca di Cagli che abbiamo commissionato alla Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Ancona in più abbiamo anche la possibilità e la volontà di realizzare insieme a queste mostre un progetto molto importante, un progetto europeo per creare qui a Cagli un centro internazionale di studi legati a Francesco Di Giorgio Martini ci sono già i contatti in tal senso con i frati che gestiscono il convento realizzato proprio sopra la Rocca di Francesco Di Giorgio e abbiamo chiesto anche la collaborazione di un'azienda molto importante a livello internazionale che è qui di Cagli, la Stark per la realizzazione di alcune installazioni multimediali che speriamo anche oggi di poter vedere Un'iniziativa ad ampio raggio dunque per i comuni aderenti un'importante assist per la valorizzazione delle proprie risorse storiche, artistiche e architettoniche Diciamo che per noi la Rocca e il torrione di Francesco Di Giorgio Martini sono i nostri fiori all'occhiello e rappresenta proprio il simbolo della città di Cagli valorizzato attraverso questa iniziativa della Confcommercio e in più si aggiungerà in quest'anno, nel 2021, quindi nel prossimo si aggiungerà la possibilità di percorrere dal torrione che si trova al centro della città i 360 gradini che usciranno proprio su alla Rocca dove ci sarà un restauro della stessa in quanto distrutta nel 1500 dal Guido Baldo proprio per non permettere che il Valentino la potesse prendere insomma, quindi bellissimo progetto incentiverà quello che era già il nostro ulteriore progetto di riapertura del soccorso coverto e tornerà anche il prossimo anno Generazione Silver il programma dell'associazione 50 e più che ha ottenuto un ottimo riscontro in queste puntate già trasmesse sulla nostra emittente Rossini TV ringrazio Rossini TV per averci concesso questo spazio a noi dall'associazione 50 e più chi ci ha seguito ha visto che abbiamo prodotto una trasmissione dal titolo Generazione Silver dove abbiamo parlato dei problemi che riguardano la terza età e cogliamo l'occasione per fare gli auguri di Natale ringraziare chi ci ha seguito soprattutto se ha trovato interessante la trasmissione se la trovate interessante ho una buona notizia l'anno prossimo ci sarà un nuovo ciclo e quindi ci incontreremo e ci avremo nuovamente modo di darvi le nostre informazioni su questo settore che sta diventando importante come voi sapete la popolazione anziana sta crescendo in maniera non dico preoccupante ma certamente impegnativa per la società e a proposito di quello che succederà in futuro cioè la replica di questa nostra trasmissione chiediamo al presidente dell'associazione 50 e più Alberto Dolci di illustrarci quali sono le intenzioni dell'associazione che cosa ci riserva dopo le sorprese di quest'anno che sono state interessanti la trasmissione abbiamo già detto e anche un convegno sul benessere in menopausa Presidente che cosa ci aspetta nel 2021? Ringrazio il collega Marcello Mamini che ha prodotto e condotto la trasmissione Generazione Silver per la domanda a proposito del 2021 è chiaro che le restrizioni relative al Covid ci obbligheranno purtroppo a non incontrarci ancora per diversi mesi naturalmente abbiamo ben presente che la parte di popolazione associata a 50 e più è quella più a rischio di conseguenza stare lontani, distaccati è veramente un obbligo ciò nonostante vogliamo sempre tenere i contatti tra di noi mantenere stretti i rapporti e cercare di fare un servizio agli associati e ai non associati le trasmissioni che sono state messe in onda grazie a Rossini TV e prodotte da 50 e più in questo autunno sono state molto seguite hanno avuto un grande riscontro abbiamo potuto verificare anche dalle telefonate, dai ringraziamenti e dagli interessamenti nonché dai nuovi iscritti all'associazione che è un mezzo che ha la sua capacità di incidere di conseguenza come è stato già detto abbiamo deciso di rinnovare il nostro impegno e anche per il prossimo inverno e primavera 2021 andare in onda con nuove puntate della trasmissione Generazione Silver i contenuti saranno similari ma ci saranno ovviamente anche delle novità a proposito di rubriche nuove che potrebbero essere anche relative alla cucina o altre metodiche relative al benessere esteriore o anche a come ci si mantiene bene in forma ci saranno insomma tematiche nuove che renderanno ancora più interessante la trasmissione spero che ci seguirete con lo stesso entusiasmo e numerosi come avete fatto in passato e colgo l'occasione per fare i migliori auguri ai nostri associati e a tutti gli ascoltatori della nostra trasmissione di Rossini TV con la quale abbiamo collaborato in maniera proficua visto che non ci possiamo vedere dovremo festeggiare da lontano ma tanti tanti carissimi auguri a tutti 50 anni e su sempre insieme a me troverai la forza di lottare contro un mondo sordo al canto della libertà contro un mondo sordo al canto della libertà contro un mondo sordo al canto della libertà questa mattina il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha piantato un ulivo all'ospedale di Pesaro un segno di rinascita per il 2021 nel luogo simbolo di questo difficile anno che giunge alla conclusione un gesto per ringraziare medici, infermieri e operatori sanitari per l'immenso lavoro fatto e tuttora in svolgimento il primo cittadino ha poi affermato che si sta lavorando anche ad un'opera strutturale che possa rimanere nella storia della città dedicata a tutte le persone scomparse a causa del covid-19 informare per sostenere una scelta consapevole questo è l'obiettivo dell'iniziativa promossa dall'assessorato alla crescita che ha pubblicato sul sito del comune di Pesaro gli appuntamenti con gli open day programmati dalle scuole secondarie di secondo grado della città risvegli fortunati ieri mattina per due residenti di Montecchio e Sant'Angelo in vado al bar Parioli di Montecchio un pensionato ha vinto 100.000 euro giocando una schedina mentre a Sant'Angelo il bar Spidi ha registrato un altro colpo fortunato al supernalotto che porterà nelle tasche del vincitore o della vincitrice la somma di 50.000 euro e ora la pagina sportiva del nostro telegiornale parliamo di Vis che è pronta a scendere in campo domani in trasferta contro la Fermana nel frattempo nella prossima intervista realizzata per noi da Giorgio Ricci il presidente Mauro Bosco traccia un bilancio di questa prima parte della stagione portata avanti dai Biancorossi Siamo contenti, siamo contenti io avevo chiesto punti e prestazione della squadra penso che l'abbiamo ottenuto entrambi quindi è andata come volevamo, come desideravamo siamo felicissimi, va bene così Ecco, non vorrei interrompere la sua felicità ma manca una giornata alla fine dell'andata e ora possiamo trarre qualche conclusione è la squadra che lei si aspettava all'inizio? Il momento attuale non è ancora per trarre conclusioni l'importante per noi era fare punti in queste ultime partite prima della pausa natalizia ci stiamo riuscendo, veniamo da due vittorie consecutive il primo obiettivo è vincere ancora mercoledì per chiudere la prima parte della stagione poi si vede, poi si vedrà Cosa possiamo aspettarci a gennaio? Vedremo, siamo aperti, siamo vigili c'è da migliorare, questo è indiscutibile vedremo di migliorare ancora Migliorare nel senso di, possiamo sperare, dei rinforzi nelle squadre? Lavoreremo anche su questo, sicuramente faremo anche qualcosa in tal senso E questa era davvero l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo che questa sera in prima serata a partire dalle 21.15 il nostro staff vi farà in diretta gli auguri per queste festività in arrivo vi ricordiamo poi che domani sera a partire dalle 20 sarà protagonista lo sport in diretta su Rossini TV con il match che vede protagonista Little Service contro l'acqua e sapone quindi domani sera in diretta a partire dalle 20 vi ricordiamo inoltre che nella mattinata di Natale quindi il 25 dicembre in diretta alle 11.30 potrete assistere su Rossini TV alla messa per la festività così come il 1 gennaio la celebrazione sarà trasmessa alle 18.30 e l'informazione torna puntuale invece domani mattina in diretta su Rossini TV con la nostra rassegna stampa alle 7.20 grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata su Rossini TV